curiosissima, è una cosa complicata cosa sono? vogliole sono biscotti gira 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 carbone vegetale, spinaci, olio e pomodoro natura toscana dal forno di Umberto giriamo ancora biscottini di tutti i colori ah buon natale del calendario dell'avvento no, non vediamo perché c'è tutto l'elenco di quello che c'è dentro, non lo voglio sapere comunque sono biscottini, salati artigianalità ed esperienza toscana 100 grammi dal forno di Umberto questi bisognerà assaggiarli il primo regalino del calendario dell'avvento di The Gustabox e c'è acqua e farina, vogliole costano al negozio 1,75 e sono sfiziose e saporite ideali per un aperitivo non fa per placare quel languorino tipico pomeridiano ricchi di gusto e colore sono un nuovo prodotto di acqua farina domenica primo dicembre vi aspettiamo domani per la seconda casellina d'aprire domenica domenica